Partiti una serie di incontri tecnici mirati alla prevenzione non strutturale di incendi boschivi organizzati dalla Protezione Civile Regionale, d'intesa con il Comando Regionale Carabinieri Forestale Campania e Anci Campania, presso i comuni maggiormente interessati al fenomeno. L'iniziativa, promossa da Regione Campania, è partita dall'individuazione dei 50 comuni maggiormente a rischio, sulla base dell'analisi dell'andamento incendi degli ultimi tre anni ed è volta a rafforzare il monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri forestali con l'intensificazione dell'attività di pattugliamento, ma anche a fornire supporto ai comuni per l'adozione di ordinanze specifiche finalizzate alla prevenzione del rischio. Particolare attenzione sarà apposta alle aree boschive in cui sono presenti insediamenti e impianti turistici.